Oggi ho visto una puntata di Mi scappa la diretta dell'amico Salvo Marlarà e Salvo ha esordito dicendo oggi non so cosa dire. A me sembra una cosa un po' strana che Salvo non sappia cosa dire anche perché è noto per la sua delettica, per la capacità di intrattenere eccetera ma la cosa mi ha un po' stupito perché dico come Salvo non sa cosa dire, non sa cosa affrontare siamo in un momento in cui 5 stelle, c'è un certo fermento, Grillo abbandona, non abbandona ha tolto il suo nome dal simbolo, c'è un certo fermento, votano, non votano, una certa legge particolare si preparano a farsi istituzionalizzare ancora di più e come Salvo non sa cosa dire Salvo ha seguito Grillo nello tsunami tour, credo abbia dormito, da quello che mi ricordo in 30 metri forse meno, 10 metri quadrati anche con Grillo e con altri, quindi è stato a fianco a fianco, ci potrebbe raccontare quali erano i sogni di Salvo, perché lo faceva, che cosa trovava in quelle piazze, che tipo di gente vedeva, quali erano le speranze, che cosa la gente si aspettava e quello che è successo poi dopo, le disillusioni, promesse tradite, un movimento che ripeto appunto si appresta ad essere totalmente istituzionalizzato, mi piacerebbe sentire da Salvo un racconto su queste cose, sapere se c'è stata o non c'è stata delusione anche umana, al di là della delusione politica, perché chiaramente quando c'è un coinvolgimento così grande posso immaginare la passione con la quale Salvo ha fatto questa cosa, la passione con la quale ha seguito Grillo, ha filmato i suoi discorsi, ha ascoltato le cose che diceva, ha visto la gente che si radunava a migliaia nelle piazze e la speranza che sembrava nascere, crescere, che potesse portare verso uno sbocco veramente di cambiamento e poi invece tutto questo è stato tradito, mi piacerebbe sentire da Salvo che cosa ne pensa, lui adesso usa il termine essere umano, essere umano, io glielo sto dicendo appunto Salvo nello stesso modo, da essere umano a essere umano, quali erano i tuoi sogni, quali erano le tue speranze, che cosa hai trovato in quelle piazze, che cosa vi dicevate con Grillo quando venivano chiuse, come dire, le esibizioni di piazza, di che cosa parlavate, quell'uomo ti sembrava convinto, si confidava, diceva delle cose che magari non diceva in piazza, raccontava delle cose particolari e soprattutto come hai vissuto poi questa delusione, ho il sentire deputati e senatori che sono stati eletti anche grazie a questi tour, al successo che questi tour hanno avuto, alla diffusione del pensiero di Grillo che poi appunto questi deputati e senatori si trovano in Parlamento e quando senti fare dei discorsi mi riferisco anzi a qualcosa che tu stesso hai detto, hai sentito un certo Di Maio che raccontava qualche episodio di spicciola corruzione adebitando il debito pubblico italiano, la situazione in cui noi ci troviamo a queste corruzioni veramente condannabili, condannabili scusate, ma che rappresenta veramente qualcosa di marginale, ecco a me piacerebbe sentire Salvo che parla di queste cose, mi piacerebbe proprio umanamente sentire Salvo, invece Salvo ha preso le distanze, è giusto, ogni tanto dice delle cose, le dice anche in una forma forse ironica, forse sarcastica, ma non credo che abbia mai raccontato tutto quello che magari si porta dentro, tutto quello che ha vissuto, magari le confidenze che ha ricevuto, ma soprattutto mi interessa che cosa, mi interessa a me, ma non penso solamente a me, che cosa che Italia ha trovato in quei tour, che speranze, che erano il tipo di persone che si avvicinavano a queste oceaniche folle che aspettavano quasi il profeta che andasse a portare il verbo in queste città, a portare una parola di speranza, questa speranza che è cresciuta quando poi le elezioni, il Movimento 5 Stelle ha preso valanghe di voti e tutto questo poi è finito, tutto questo è diventato una speranza che è svanita e purtroppo ancora ci sono delle persone che credono che il Movimento 5 Stelle stia facendo bene, che più di tanto non si può fare perché avrebbe le mani legate e io mi sono anche permesso in un video precedente di dire, vabbè, ma se come deputati e senatori hanno le mani legate, come semplici cittadini no, quindi potrebbero anche loro aderire magari alla campagna stessa di Salvo che diceva denuncia una banca, una campagna di Salvo appunto denuncia una banca, potrebbero denunciare come privati cittadini le banche, ma questo non lo fanno, cioè pare che le cose importanti, questi deputati e senatori del Movimento 5 Stelle proprio non imbloccano la strada, non vedono chiaro l'obiettivo, non capiscono la differenza tra qualcosa di importante e qualcosa di marginale, fra spiccioli e montagne, cioè veramente pare che una volta entrati in Parlamento abbiano perso la bussola non solo, ma hanno perso anche la priscatole con la quale avrebbero dovuto poi aprire il Parlamento come una scatola di sardine. Ecco, a me piacerebbe che Salvo raccontasse un po' di cose, gli aspetti proprio umani che lui ha vissuto, le speranze, la gente e la delusione che poi è arrivata e sulla quale ormai credo abbiamo ben poco da dire, perché non ci sono dubbi su questa delusione, sull'ennesima delusione, perché le delusioni poi da parte delle persone sono state tante, il PC, il vecchio PC che ancora qualcuno ricorda con nostalgia, ma mi pare che quel PC fosse poi il seme dal quale poi si è sviluppato tutto il resto, l'MSI, qualcuno sperava nell'MSI, poi arrivò la Lega, grande Lega che doveva rivoluzionare tutto, poi invece arrivò anche Di Pietro, un altro salvatore della patria, poi arrivò Grillo, ma la differenza tra Grillo, Grillini e gli altri partitini è proprio la dimensione del fenomeno, la dimensione del fenomeno, il numero di deputati portati in Parlamento, deputati e senatori, i suffragi, cioè i voti avuti, penso che nessuno dei partiti precedenti accetto il PC, che poi non era una vera alternativa al sistema o non si presentava comunque come tale, anche se qualcuno potrebbe obiettarlo su questo, ma rifletteteci bene, era ben istituzionalizzato, infatti si parlava delle partite dell'arco costituzionale e il PC faceva parte dei partiti dell'arco costituzionale, non l'MSI, ecco perché dico che poi altri partiti invece, quando arrivò Bossi fu criminalizzato, forse inizialmente Bossi aveva veramente delle intenzioni buone, poi invece pare che chiunque si affacci sulla scena politica venga in qualche modo, insomma, riceva un abbraccio particolare, da questo abbraccio non si libera più. Quindi questo è l'invito, Salvo, quando non sai di che cosa parlare, parlaci di questo, parlaci di che cosa hai visto, che cosa hai sentito, che cosa hai trovato in quelle piazze, che tipo di persone, quali erano le speranze e qual è invece la situazione oggi. Grazie e alla prossima.